Nel dopogara di Bari Avellino tengono banco le polemiche per la presunta scorrettezza di un calciatore erpino da cui sono scaturite la reazione di De Luca prima e l'espulsione del tecnico Mangia subito dopo. Cosa è accaduto in seguito è noto a tutti, Biancorossi in dieci per buona parte del secondo tempo e superati dagli avversari in rimonta per 2 a 1. Eppure nonostante il vantaggio i padroni di casa non avevano particolarmente brillato, poco fluida la manovra del primo tempo chiuso sull'1 a 0 grazie all'unica pericolosa sortita offensiva, quella finalizzata su calcio d'angolo dal debuttante Ligi. Per il resto molti lanci dalle retrovie a sbattere sistematicamente contro la difesa campana e scarsa imprevedibilità da parte degli uomini di maggior spessore in un copione tattico che si riproporrà spesso nel campionato che si aprirà sabato in casa della Virtus Entella. E' il centrocampo, il reparto del Bari, bisognoso di più tempo per metabolizzare il passaggio dal 4-3-3 adottato nelle ultime stagioni al 4-4-2 caro al nuovo allenatore. Questione di vocazione degli interpreti soprattutto, gli esterni Stoian e Galano in attesa di Stefanovic hanno quasi sempre giocato a ridosso degli ultimi 16 metri senza rigide consegne di copertura, mentre Defendi e Sciaudone, entrambi i cursori, sono più portati ad inserirsi che a far legna e sostanza nel mezzo. Insomma, una vera e propria metamorfosi che Mister Mangia dovrà accelerare, magari anche grazie a qualche freccia in più, proprio in mediana. Oltre al 18enne Minara, proveniente dalla Lazio, potrebbero arrivare nell'ultima settimana di mercato anche un'alternativa sinistra e un centrocampista centrale di esperienza. De Luca sbaglia perché reagisce, ma il ragazzino loro, il ragazzino lì che hanno il centro avanti, deve imparare a stare al mondo perché il morso è uno dei gesti più vili che ci sono sulla faccia della terra insieme allo sputo, quindi deve imparare l'educazione perché il morso è un atto vile, il morso è un atto molto vile. È chiaro che loro facevano tanta densità, concedevano poco spazio perché stavano con le punte molto basse e quindi la superiorità bisogna cercarla portando fuori qualche giocatore da dietro, quindi è normale contro squadre così bloccate, devono cercare di far arrivare palla ai giocatori con più qualità, magari sfruttandoli anche in altre zone di campo, con gli altri tipi di movimenti, secondo me però stavamo iniziando a farlo bene nel secondo tempo, poi dopo è chiaro che quando rimani in dieci diventa un po' più complicata la faccenda.